Andiamo con una bella tolla romana, stesura, cottura, condimento, tutta la parte finale. Senti, fammi una cortesia, fammi dare un'occhiata ai pannelli così... Eh, sì, questo... Ok, vai. Fai di mattarello? Sì. Questa è la pizza romana. Comunque è faticoso il lavoro di mattarello, eh? Sì, prima lo fornato 5 anni con il mattarello. Ah, a mano si sbriga molto prima, la fai con lo slap, in 3 secondi la chiamare. Beh, sicuramente la tocchi di meno, è meno faticoso. Allora, a fine serata con questo lavoretto qua, stai bello spezzato, eh? Sì. Perfettamente tonda, bravissima. Ma fai io non mi sento. Ah, io lo ho tè. E adesso stiamo facendo la napoletana, vero? Che sarebbe la Napoli, anzi. La Napoli, la napoletana a Roma. La napoletana a Roma, sì. Che a Roma è una margherita con le arice. Eh, già. Ma si mette anche l'origano? Non mi ricordo. No. No. Dipende, dipende dai punti di vista, c'è chi lo mette e chi non lo mette. No. No. Ecco. Quindi qui abbiamo tempi di cottura intorno ai due minuti, più o meno. Cerchiamo le cuoce, la volete più. Ah. Perché poi risalziamo la temperatura. E comunque nonostante il mattarello, nonostante spianata fina fina, un pochino esce fuori a maturazione. Eh sì. E sulla smana romana romana non c'è stato. La romana è una pizza spagliata. La romana la c'è non leggerla, perché non vediamo. Sempre quando loro vedono che stavano scazzi, ripuntano in dividerazione, ripuntano tutto qua. Io mi so farei palline, un fratture della pizza e stendere. La pizzeria romana è fatta in pizza. La pizzeria romana è fatta in pizza. Eccola. Eccola. Perfetto. E ora diamo un'occhiata alla cassetta dei panielli. Ricordiamo sono da 180 grammi. Perfetto. Che sarebbero, questi sono quelli che hai piazzato 5, 5 e 4 quella centrale, giusto? Che poi l'hai sistemata, va bene. Perfetto, va benissimo. Adesso che cosa facciamo? Che pizza facciamo? La pizzeria romana. Fiori. La pizzeria romana. La pizzeria romana. La pizzeria romana. Ma è veramente parecchio più faticoso sta stesura rispetto alla napoletana. Se hai l'impasto maduro giusto, con gli occhi la spianca, non c'è bisogno neanche di spianare, adesso vuoi ottimamente la spianca, adesso in che modo stiamo, cioè le mani non le muovo, io l'appoggio e allargo e basta, e poi me la giro in mano e poi la pallina madura da giusto. Giancarlo se ti avvicini, se ti avvicini a noi, o di là anche, si va bene anche di là così ti inquadro, intanto ti viene preparata la pizza, tu con questa qua è la capricciosa no? La quattro stagioni, ah la quattro stagioni, ok, che viene scontornata con la divisione di posta, che viene messa, no, devi andare lungo la mozzarella, indiagolare, quindi, questo pare senza andare così. No, vabbè, no, meglio perché quel pomodoro che dopo non si mischia, e poi è la, molte rizzerie romane a prendere, proprio con il divisorio. Allora, la quattro stagioni com'era divisa, in quattro settori, che ci si metteva? Alla fine, un quarto margherita e un quarto funghi con traproste, e poi di solito le bianche potevano cambiare secondo la pizzeria, molto spesso, mi ricordo, andavo in una pizzeria dove la facevano piselli e prosciutto, uno spicchio della bianca, spesso si fa anche l'ordolana con le verdure. In questo caso, invece, abbiamo fatto la margherita, le rosse, margherita e funghi, e le due bianche, invece, ortolana, mozzarella e carciofini, e poi il prosciutto, in uscita, il prosciutto crudo. Bella l'ordolana, molto bella, facciamo un po' di dettaglio sull'ordolana, sui funghi, questo è il carciofini, e questa è la margherita. Questa viene rigorosamente impalata in questo modo, mentre la napoletana in genere si tira sulla palla, in questo caso. Poi dipende dal metodologico di lavoro, si tira sulla palla di legno, è veramente un pochino più operativa rispetto all'acciaio, quindi si tira a mano anche per chi in effetti. Beh, per non muovere troppo il cronigione, perché bisogna di crescere nel forno e in cottura, quindi con la mano sulla pizzeria da un po' solo dal basso. Il rotatore, bravissimo, serve per sganciarla, per non farla attaccare, per farla muovere meglio, bravo. Cioè, io sto svenendo, perché intanto che sto facendo questa ripresa, voglio far vedere anche tutti gli amici del forno, che caspita c'ho qua sotto, perché non potete capire che profumo arriva. Una cosa, un supplizio, a proposito di supplizio, vogliamo dire due parole? E' una grande e bella storia quella del supplizio. E' Villa Rai. Il supplizio è uno dei vizi dei romani. E' vero. Come dice Stefano, un vizio capitale, come dice Stefano Gallegari. Il supplizio nasce in diversi posti nel sud d'Italia, soprattutto l'influenza dei francesi nel 1700. E abbiamo le tre grandi tradizioni siciliana, napoletana e romana. Perché oggi il riso è un prodotto del nord Italia, del Pielese, del Novarese e del Peronese. Mentre invece l'introduzione del riso in Italia è stata fatta al sud. È stata fatta in Sicilia e soprattutto vicino Salerno. Per i francesi, per i pochi francesi che stavano dai Borboni. Sì, ma anche evidentemente per caratteristiche diverse del clima di quel periodo, per cui addettiva all'atitudine inferiore. E' per questo poi che l'arancino e il supplizio nascono al centro-sud, mentre invece poi il risotto si è sviluppato più al nord successivamente con le piantazioni del risotto del nord. Il supplizio romano deriva, anzi quello romano, dicendo suppligia diciamo che è romano. E la radice della parola deriva proprio dal francese, dal francese sorprise, che si è trasformato poi nei decenni, anche nei secoli, da surpris a surpris, da surpris a surpris e poi nel dopoguerra, perché dato che l'erre romano soprava come erra, è stato trasformato in supplì più gentile. Però se uno, infine a qualche anno fa, sentendo vecchi romani, che oggi ci dovrebbero avere cento anni, però io quando ero più giovane me lo ricordo che lo sentivo spesso chiamare supplì. A surpris e anche la surpris, quindi proprio francese, molto più vicino al francese. La derivazione del nome del supplì è proprio questa. Come sartula, sartula. Poi a Roma c'era il supplì tradizionale, veramente quello antico tradizionale, che era in bianco e c'era anche il burro, i funghi e il prosciutto nel soffritto. E poi veniva messo il sugo di ricagli di pollo all'interno, proprio come sorpresa. Mentre invece poi nel secondo dopoguerra si è sviluppato il supplì moderno, che può essere fatto con il sugo, può essere fatto con il sugo semplice, anche senza carne, con il sugo finto, oppure con un leggero ragù di manzo o di ricagli di pollo. Però le ricaglie di pollo sono rivalutate un po' negli ultimi anni, che c'è stato un ritorno della cucina romana tradizionale, ma va a dire per 30-40 anni. Il quinto quarto è sparito per parecchio tempo. A Roma è un consumo veramente notevole di supplì, è quasi una necessità. È un prodotto che non tutti apprezzano invece all'estero, io vedo che l'impatto del supplì sugli stranieri non è vincente. Mentre invece sui lombardo-veneti sì, perché loro sono cultori del risotto, conoscono il riso e quindi trovarlo poi panato. Lo apprezzano. Sì, di solito ha un certo successo. O forse perché gli stranieri restano poco, non hanno abbastanza tempo per... ci si approcciano male, sono diffidenti, se mettono lì a tagliarlo col bottello o la forchetta lo distruggono. Senti, che ci tocca fa adesso? Adesso facciamo la fiori e poi facciamo la garliciosa, che è la regina delle pizze romani. Intanto ve la apriamo. Eccoci alla terza pizza, sembra la solita stesura, mattarellata. Quella che stiamo preparando adesso è la? La fiori annoscia. Il fiore è messo a crudo sulla pizze. Mazzarella, fiori e alice. In buona sostanza è il ripieno dei fiori fritti. Sì. Guardate qua, che potrò di meraviglia. Non mi era venuto in mente. Quindi in quel caso vai su una 2,40. Io la faccio a 20,40. Provo a sfiori fritti. Ragazzi, se passi di là, adesso facciamo quest'ultima... Schiacchiamo al spettacolo questa. Bella, bella. Facciamo una piccola carrellata, volante. Adesso prepareremo, queste sono le tre pizze fatte, fino adesso una dopo l'altra, e adesso prepareremo l'ultima, quella un po' più particolare, forse delle pizze classiche romane, che si chiama pizza capricciosa. Molto spesso si sente parlare di questa capricciosa, nel senso di, è quello che è il pizza capriccio, è il pizzaiolo, fa metterci e mette quello che vuole, decide lui quello che ci deve mettere. Assolutamente no. No, stanno così. Il nome capricciosa non deriva, dal fatto che uno la fa, secondo il proprio capriccio, bensì deriva dal nome di un locale, del locale in cui è nata, che si chiama per l'appunto La Capricciosa. Qui a Roma? A Roma, centralissimo, praticamente in una piazzetta, che si è allargata via del Corso, all'altezza, piazza poco di Piazza Cusso Imperatore. Locale storico romano, aperto negli anni 50, che ancora esiste, non c'è più la fama di prima, ce l'ha avuta, diciamo, fino alla fine degli anni 80. E dove è nata la pizza capricciosa negli anni 50? Quindi è una ricetta loro, ben precisa, e il condimento della capricciosa è pomodoro e mozzarella, su tutta quanta la base. Dopodiché, su metà, e su poco meno di metà, si mettono i funghi, e poi si mettono, in cottura, un carciofino spaccato, un uovo sotto spaccato, e quattro olive nere, nella maniera più assoluta denocciolata, perché l'oliva denocciolata è una iattura, e spesso abbiamo anche clienti che ci dicono, ma come le olive non sono denocciolate? Denociolarle una a una, sarebbe una follia, e mettere quelle dati denocciolate è un'eresia gastronomica, perché all'interno dell'oliva denocciolata va a finire tutta la salamoglia, e ha voglia sciacquare il sapore di salamoglia, non lo perderà mai, e il sapore dell'oliva buono non ce l'avrà mai. È vero, è vero. E poi in uscita, alla fine si mette una bella fetta di prosciutto crudo buono, e quindi non è assolutamente una pizza a capriccio, ma è una pizza codificata in maniera molto precisa. Ecco, questa è una cosa che assolutamente non sapevamo, e abbiamo imparato stasera, adesso la verremo fare, dai nostri amici pizzaioli, che ce la prepareranno. I presentiamo? Sì, volentierissimo, volentierissimo. Allora, ci abbiamo Mamud, ormai da 6-7 anni alla Gattamangiona, 8, ormai quasi 8 anni alla Gattamangiona, e Elio, che collabora con noi in altri locali, per gli eventi, e in alcuni periodi anche qui, da circa 3 anni, pur essendo giovanissimo, era proprio bambino, quando ha iniziato con noi in un altro locale, e dal primo novembre, pizzaiolo ormai definitivo della Gattamangiona. Benone, gran tristassi. Non solo, lo vogliamo dire, anche il vincitore del premio pizzaiolo emergenti, capolino da 15, a manifestazione Pugin for Art, di Luigi Cremona. Bravo, bravissimo. Vincitore in finale con una giuria di 32 giudici, che provenivano da tutta Italia, ma almeno una decina napoletani. Grande onore. Grande, bravo, bravo. E sostenuto ovviamente dall'esperienza di Mahmood, ma comunque è un talento grandissimo. Grazie. Bene, allora vediamo lì all'opera. Mahmood. Se ci riusciamo a organizzare, vengono le sostituzioni, vengono tutti e due alla conferenza. Eh, a Igea, volentieri. Io non lo farei proprio mai, poi mai non lavoro così, ma manco molto. Mi spezzerei le reni dopo tre minuti. Capricciosa. Capricciosa. Ok, capricciosa. Si comincia, base mozza al pomodoro. Ah, sono riuscito a registrare le manierie da Vesuotorelle in Camberò Rosso, la puntata della nostra vita. Da Sicilia, che hanno registrato. che hanno fatto, che a Vesuotore ha fatto questa serie di dodici trasmissioni su una ventina di minuti, su dodici in serie italiane. E adesso hanno incorciato nella rinonda dalla prima settimana d'ottobre, ogni settimana ne fanno un anno. Se lo rinno alla fine dell'anno. L'hai vista? Sì, l'abbiamo. Il mezzo uovo, i carciofini, le olive, e tutto è pronto. Sì, l'abbiamo. Sì, l'abbiamo. Eccola che arriva al spettacolo, va. Grazie.